Torna il Teatro del Sorriso. Sì, questa è la terza edizione della Fortunata Rassegna, che lega un'iniziativa di solidarietà a un momento ludico di teatro, che quest'anno rappresenterà una pillola di sabato e di domenica, 14 e 15 maggio, proprio in coincidenza con la giornata del Naso Rosso, che è la giornata che vuole sensibilizzare il pubblico su questo tema della terapia con il sorriso. Infatti saranno proprio i clown dottori i protagonisti di questa rassegna. Il sabato alle ore 21, una serata per tutta la famiglia, in cui ci saranno grandi performance artistiche, ma all'interno di questa serata presenteranno i clown dottori anche un quiz sulla storia e sulla cultura di Santa Marinella, a cui sarà chiamato il pubblico a partecipare. La domenica invece alle ore 18, sempre a Teatro della Chiesa di San Giuseppe di Santa Marinella, ci sarà uno spettacolo proprio per i bambini, in cui i clown dottori si esibiranno e coinvolgeranno il pubblico dei più piccoli. Tutti sono chiamati a presenziare questo doppio evento, è entrata gratuita, quindi il mio è un ulteriore invito a partecipare al Teatro del Sorriso. Sindaco, senza il volontariato forse le amministrazioni comunali non saprebbero cosa fare. Assolutamente, ma in tutti i campi ormai, perché grazie al volontariato riusciamo a parlare sia di emergenze, ma sia anche di cose piacevoli, di iniziative che possono dare un sollievo a chi frequenta il nostro territorio, e la nostra città per altri motivi, come è il caso del Teatro del Sorriso, che serve appunto per dare un minimo di distrazione a chi ovviamente viene al Bambin Gesù di Santa Marinella, gravato da altri problemi. Però credo che tutto quanto faccia parte di un sistema che possa mettere nel miglior modo possibile i nostri piccoli utenti che vengono a Santa Marinella a cercare un po' di sollievo e delle cure importanti per la loro salute. Avvocato, Fondazione Cari ci va al sostegno della solidarietà della sociale con il Teatro del Sorriso. Sì, la Fondazione non può non mancare di fronte a questo tipo di manifestazioni. Sono tre anni che diamo un nostro piccolo contributo, ma ringraziamo chiaramente chi poi fa queste cose dall'amministrazione comunale alle associazioni e devo dire che l'associazionismo, io lo dico sempre, mi piace ribadirlo, è molto valido, molto attento sia a Civitavecchia, a Santa Marinella che nel territorio in genere e a loro vanno veramente sinceri ringraziamenti perché tante cose si possono fare. Sì, noi mettiamo qualche cosa, ma se non c'è poi la passione, l'obbligazione, la volontarietà, nel caso di specie, si potrebbe fare poco. Quindi un in bocca al lupo per questo progetto con la speranza che più possano partecipare e più possano contribuire alla soluzione di questi problemi.